Questo prima di festa, perché la festa di nozze è per tutti, adesso scenderà la Madonna, così come tradizione, sarà colpa per la villa davanti al pare, gentilmente, lo sapete, lo sapete, già lo sapete, è il rituale che si ripete ogni anno. Fazzoletti, evitiamo di scrofinarli sulla stacola, facciamo una preghiera semplice davanti alla Madonna, cortesemente non camminiamo sulla pedana, perché è fragile, saranno a messe due bambini qui ai lati, si passerà dal centro, dai lati solamente gli anziani con difficoltà nel muoversi e le donne in cima, possibilmente chi deve venerare la Madonna non venga dai lati e non passera dietro, ma dal centro, infine con calma, vedremo tutta la mattinata e arriveremo e faremo la nostra venerazione davanti alla Madonna. Qualora abbiamo un oggetto da donare alla Madonna, lo consegnerete in mano ai sacerdoti che stanno vicino alla Madonna, ok? Mi raccomando, ne siamo in tanti, muoviamoci con estremissima calma e tranquillità. La mamma sta qua per ogni figlio, ok? Quindi, chi prima, chi dopo, tutti quanti ci arriveremo e potremo spiegare al Signore delle grazie di cui ne abbiamo visto. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio mi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna di Casandrino, concede al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Adesso che la Madonna sarà collocata, non muoviamoci. Vanno prima la benedizione consacrata ai sacerdoti, dopo che i sacerdoti sono a mezza che stiamo, ci muoveremo e ci avvicineriamo tutti quanti per la morte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.